Buonasera, prima di iniziare ci sono i ragazzi del comitato del referendum per la cittadinanza che fanno un intervento, chiedo di accoglierli con un applauso. Grazie mille, buonasera a tutti quanti voi, vi terrò impegnati giusto un'ora, no a parte gli scherzi, era giusto per invitarvi a questa grande campagna figli e figli d'Italia, quindi questo grande referendum, ci mancano solo 9 giorni per raggiungere 500.000 firme, fino a ora siamo arrivati fino a 200.000 e confidiamo in voi, basta pochissimo, quindi cercare di ottenere la cittadinanza italiana per figli nati o cresciuti qui in Italia come nel caso mio che sono nato qui a Roma e aspettare 10 anni è abbastanza tosta e lunga, quindi cercare di diminuirla almeno a 5 sarebbe una cosa migliore, non cambia molto ma è un piccolissimo passo per questo raggiungimento. Potete farlo tutti quanti voi con il mio QR code che casomai quando esco mi scattate la foto ma vi lascio seduti belli comodi, spavaranzati a sentire questa serata ma qui che altro vi invitiamo ad andare sul sito referendumcittadinanza.it, è facilissimo seguire tutte le prassi e con lo speed è possibile firmare la cittadinanza, dare questa possibilità di 5 anni o sono anche col documento elettronico. Confidiamo a voi, non vi levo molto spazio, è un piccolo aiuto che vi chiediamo con tutto il cuore veramente al popolo, ai cittadini italiani come nel caso mio, anche se sono originario di Capo Verde, ma confidiamo tutti quanti i ragazzi che purtroppo non hanno questa grande possibilità. Grazie a voi e scusate ancora e buona serata. Grazie. Allora iniziamo questo incontro, io inizio con i ringraziamenti. Grazie.